vediamo che dice qua l'intenditore di caccio su Genova a Roma vediamo vediamo a Roma fuori casa insomma non mi convincio, Genova è in casa col pubblico con le loro bombe quindi occhio che Genova potesse anche vincere che a Roma è ovvio chi c'è scritto qua? come è? Baccellona Genova 4 Roma 1 che è in Barre Palermo? che è azziccavo risultato? aspetta il Baccellona, il Baccellona d'Italia è Genova aspetta aspetta il go di Lucazzo, aspettiamo il go di Lucazzo, aspettiamo il go di Lucazzo top player, secondo me è sbagliato, deve essere Genova 1 Roma 4 doppietta di Lucazzo, doppietta di Bala, azz, i top player non è che il soccalito, il nuovo Milito, retequi, retequi, il nuovo Milito il nuovo Milito, bravissimo, ti amo, bravo, che ho detto il retequi? anzi, lo dico, sarò il primo a dirlo nel web, il nuovo Milito, capito? un giocatore, ma guarda Lucazzo, ma non mi consiglio di Genbieto Lucazzo, come mai? che è successo? che non hai segnato oggi? sono top player, con l'Embro ha segnato 7-0, vinceremo il campionato i romanisti, chi li vuole tarati, mamma mia comunque, ripeto, lo dico sempre ai miei video, non c'è niente a Roma alla fine si che se lo fa il 16esimo posto a Roma, insomma, si sta facendo male sto campionato ma ripeto, di Bala, Lucazzo, giocatori finiti, giocatori finiti fanno una partita buona, 3-4-1, che figlio, Lucazzo, lo sai perché Lucazzo non ha fatto niente oggi? perché ha trovato, quando trova un grande difensore, uno buono, sulla sua stazza non fa più niente, lo sai che è stato il difensore di Genova? un certo Dragosin, un ragazzo rumeno, ventunanni un ragazzo che ha avvenuto purtroppo l'ha dato, che già ne fai era Caio Vendus a me piaceva Dragosin, guarda, fortissimo, c'è entrare stop fortissimo che fu? ma di mamma, che vergogna comunque, di Bala e Lucazzo, tutti e due di Bala e Lucazzo, oggi erano a stazione di Porta Principe a mangiare la farinata, vado a mangiare la farinata tutti e due, tutti e due, finiti, come dice il padre Palermo minchia Ugenova, vi rompio il culo, guarda, ma come sto godendo la faccia di Lucazzo e di Bala, non le posso vedere, no, non le posso vedere capito? il bacio allo comunque, parliamo di Retequi, Retequi, nuovo milito quello è veramente top player, ragazzo a vendere quattro ecco, Juventus, Ugenova se l'ha preso a 12 milioni di euro usato qui, era nel settore giovanile del Boca Juniors io penso, perché non vado a prendere attaccanti in Argentina vado a fare tutta mezza squadra di Argentina guarda, sarò stai in giro, no? perché sui Juventino Retequi, per me c'è qualcosa in più di di Bala sta morendo guarda, che chiede da qua, che chiede da qua ma no, stanno morendo Lucazzo con l'interno eh, Murita eh, Special One, vatti ma non lo flopo, che su qua, guarda ma che, ragazzo, ragazzo comunque, parliamo di Retequi Juventus, ma Retequi giocatore l'anno scorso preso a Genova, bravo Genova bravi dirigente di Genova 12 milioni di euro 12 milioni di euro preso, oh, giocatore giocava con il Tigre un giocatore che ha fatto 48 presidi, 30 reti 30 reti nessuno sa la storia di Retequi Retequi, suo nonno era cosa di cane cattiera di agrigentino era quindi c'è il sangue bollente siciliano e il sangue bollente argentino è un mix, capito? ma poi una cosa Tevez non insegna niente cioè, noi avevamo avuto un gentino forte Tevez all'attato Tevez e c'è chi su Retequi chi su Retequi si mettega ah boh aspetta, li vanno allegri però se tu mettegli qua ma fai chiesa Retequi per i prossimi anni come va abbummiamo e poi se tu stai mica metta U.A minchia fai U.A a Retequi è chiesa per ditto, capito? Retequi era un giocatore si doveva prendere guarda anneggio guarda comunque ripeto la Roma non c'è niente però insomma sta facendo un butto campionato ma ripeto a Roma si appicchia poi si appicchia è bello ottimo ma che affare guarda segnavo la Guzmine Guzmine poi pregiato Cristand poi Retequi per goda quattro passaggi tiro un tiro alla Milito proprio quello che ripeto non ho Milito e poi praticamente ho detto il gol come segnavo la una giocatura con Mericotto la Trobici Trobici Tobia e poi segnavo Messias anche i milanisti che hanno andato a Messias insomma ma lo scorso una decina di reti l'aveva fatto Messias pure fotte ripeto Lucazzo finisco con te Lucazzo quando c'è un difensore giusto tu non toccherai le palle infatti Dragosini oggi ti ha messo le palle in faccia hai capito Lucazzo io Barri Palermo intenditore di caccio vi saluto ciao